In compagnia del professor Francesco Giavazzi, editorialista del Corriere e docente dell'Università Bocconi. L'abbiamo ascoltata in diretta prima con Sky e il suo commento alla manovra è stato piuttosto duro. Siamo dell'opinione che gli strumenti del governo si riveleranno forse insufficienti o in qualche modo inefficaci, è così? Beh, ci sono due problemi. Prima c'è un problema di grande ritardo. Se noi alcune cose per la crescita le avessimo fatte due anni fa, a quello che è accaduto in queste settimane non ci saremmo arrivati e quindi i cittadini non pagherebbero queste tasse addizionali che verranno a loro chieste. Sul contenuto poi c'è un problema perché i mercati non ci chiedevano mica di fare il pareggio di bilancio. Se uno guarda in giro per il mondo, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, non è che hanno il pareggio di bilancio. Chiedevano la crescita perché se uno non cresce poi non paga i debiti e quindi dicevano volete che vi finanziamo? Benissimo, fateci vedere che è ricominciata a crescere. Ora purtroppo per la crescita in questa manovra non c'è niente e quindi io temo che lunedì, perché lunedì in Italia è ferragosto ma nel resto del mondo si lavora e i mercati sono aperti, e il lunedì i mercati non ci crederanno. Dopodiché cosa succede? Anche la Banca Centrale Europea, così come ha fatto la settimana scorsa, continuerà a comprare. Ma per quanto, o per dirla più meglio, quanto a lungo i tedeschi accetteranno che la BCE compri i nostri titoli? E questa è la domanda. A proposito di Europa, per ora sembra appunto che la tutela stia tenendo, eppure i tempi sono quelli che sono. Avremo un momento in cui i tedeschi, come lei ha detto, si stancheranno di pagare gli euro bond e di sostenere gli errori che ha compiuto in qualche modo la classe dirigente italiana. Crede che appunto la soluzione dei nostri problemi sia di marca estera o da soli potremo in qualche modo ripartire e crescere? Io credo che la situazione drammatica sarebbe quella in cui arriviamo al momento nel quale i tedeschi devono decidere se preferiscono l'euro o preferiscono garantire tutto il debito pubblico italiano. Scelta drammatica che non so in che direzione loro risolverebbero, ma cerchiamo di evitare di arrivare a quel punto. E l'unico modo per evitare di arrivare a quel punto è ricominciare a crescere. Ripeto, in questa manovra di cose per la crescita, per esempio una cosa che la BCE e la Banca d'Italia avevano chiesto e cioè di alzare un po' le aliquote IVA e di usare quei soldi per ridurre il cuneo fiscale e ridurre quindi gli oneri sociali per il lavoro, cosa che aiuterebbe la crescita, lì non c'è stata. Qualcuno ha commentato la manovra dicendo che ha un'imposizione fiscale degna dei paesi scandinavi e un ritorno in termini sociali tipico dei paesi subsahariani. Rischia di essere questa davvero la percezione degli italiani? Beh, ecco, subsahariani mi sembra, cioè, il paese scandinavi sì, subsahariani mi sembra esagerato perché in questo paese lo Stato è pieno di disastri, però per esempio la sanità continua a funzionare nella media del paese, forse meglio che in tanti altri paesi. È per quello che, perché se fosse subsahariani non c'è speranza e micro, invece no, invece la speranza c'è e basterebbe poco, è che è quel poco che non si vede. Ancora ci chiediamo forse se la responsabilità di questa situazione piuttosto critica non sia della scarsa credibilità che i governi, non tanto quello attuale quanto quelli che li hanno preceduto hanno accumulato nei confronti delle istituzioni internazionali e comunque nei confronti della platea, dei mercati, è davvero così? Sì, ma non è, diciamo, non credo che ci sia un enorme, insomma la gente guarda l'Italia e vede o vedeva fino a pochi mesi fa che l'Italia era un paese più solido di altri, l'unico neo era la mancanza di crescita, che i mercati continuano a dirlo, i mercati, la Commissione Europea, il Fondo Monetario, sperando che si facessi qualcosa, evidente che se tu poi non fai niente a un certo punto si stufano. Però non è che ci bisogna essere dei maghi per fare qualcosa che aiuti le imprese a lavorare meglio. Un'ultima domanda, non la annoiamo oltre, la facciamo su Cortina Incontra, che quest'anno compie dieci anni, lei è spesso ospite, commenti in qualche modo se se la sente faccia un augurio alla nostra manifestazione. Io vengo a Cortina solo per arrampicare, quindi il mio auspicio sarebbe più montagna, meno politica. Grazie.